Episodio 157 di Elite Friday. Benvenuti a tutti perché questo è il primo episodio del quarto anno di Elite Friday. Sì, perché 52 settimane all'anno fanno 156 settimane per fare tre anni ed eccoci qua quindi che con la 157 si parte per il quarto anno. Il primo episodio è stato pubblicato più o meno il 16 agosto del 2019. Adesso siamo pronti per affrontare la fine del 2022 e poi il 2023. Ovviamente io sono Stefano, la voce di AW Italian Podcast al mio fianco. Come sempre c'è Fabrizio. Ciao Fabri, benvenuto. Ciao Stefano, grazie. Siamo in una settimana particolare, abbiamo ricevuto con tutti quanti noi abbonati a Fight.tv la notizia proprio da parte di Fight che non ci saranno più le dirette ma che il contenuto su AW Plus verrà spostato a 14 giorni dalla sua reale messa in onda per il territorio italiano. Poi incalzando quelli di Fight sono saltate fuori altre email che hanno spiegato un po' meglio la situazione. Ovviamente trovate tutto in un video che è stato pubblicato giovedì, cioè ieri e che lo trovate ovviamente sul nostro canale. Quindi il video prima di questo verosimilmente sarà quello appunto in cui spieghiamo tutta la situazione. Per cui oggi vi chiediamo, anche per chi sarà in chat con noi, di non fare domande a riguardo perché effettivamente non sarà nostro compito parlarne. Abbiamo già discusso, quindi ne abbiamo discusso diffusamente anche nel nostro gruppo Telegram a cui vi chiediamo di accedere cliccando nel link in descrizione. Così almeno se ci sono queste notizie sapete un po' subito come la pensiamo, sapete quando ne parleremo, mettiamo un po' di informazioni in più, insomma ai nostri della community più stretta e ancora più stretto potrebbe essere il mondo di quelli che decidono di abbonarsi al nostro canale. Lo potete fare cliccando il tasto abbonati. Vi vengono fuori tre opzioni, da due, da cinque e da dieci euro e ovviamente saranno opzioni che corrispondono anche a dei servigi che noi diamo in base a quello che voi deciderete di investire in base alle vostre possibilità e al nostro tempo ovviamente. Ma direi Fabri di dare una rapidissima occhiata alla chat e poi partire perché è stata una puntata molto piena direi. C'è Cliff che ti saluta direttamente ma credo Fabri che saluti anche Rush e a questo punto non passa nada. Per forza, per forza. Salutiamo Streamy che è qui che ci aiuterà insomma tutta la sera a vedere i messaggi delle persone, quindi grazie grazie grazie. È arrivato anche il nostro amico Ace, Jesse the Buddy, Giampiero Ventura Venturelli e Ace Serelli. Questa sera torna anche Ale a trovarci dopo qualche settimana in cui non aveva potuto far parte della chat. C'è anche Basti, eccolo qua, ciao carissimo, bentornato. C'è anche Eddie Kay che non fa mai mancare la sua presenza quando può e ci è arrivato anche Adam Cole che insomma ieri è mancato nella puntata ma sappiamo insomma non essere ancora diciamo arruolabile per il ring ma con un desiderio incredibile di tornare quindi ti auguriamo di essere caro Adam Cole di tornare più presto. Fabri io partirei partirei perché c'è una barra e Darby Allin vince la contesa. Però abbiamo visto che per l'House of Black e Wilde non sono ancora finiti. Allora parliamo per quelli che come noi l'hanno visto su Fight si è partiti con qualche minuto di problema tecnico dovuto essenzialmente al feed di Warner Media verso Fight. Succede ragazzi non è un problema ma quando si è aperto lo schermo ovviamente c'era già Brody King pieno di sangue e un Darby Allin che ovviamente le stava prendendo a destra e a manca. E quando sono andate avanti con Darby Allin che poi un po' si riprende e le interferenze e c'era dentro la barra già Sting con Buddy Matthews che ha fatto di tutto per far finta di non vedere che dentro c'era Sting che ha mostrato tutti i suoi 63 anni con la difficoltà ad alzarsi velocemente dalla barra per fare qualcosa ma comunque. Io gli ho sentito dire Pla. Ok ok. Si ha detto Pla allora siamo a posto. Ma match che sapevamo sarebbe finito così l'avevamo già spoilerato alla grande no? Con la barra vince Darby Allin. Ma è il post. Io per il post ti vorrei coinvolgere in un pensiero mio. Noi ce la buttiamo anche dentro. le parole di Miro che sono state dette poi nel promo che dice chiaramente ho capito che accetto il tuo dono caro Malakai Black per ritorcertelo contro e ti sconfiggerò. Io voglio sapere il tuo giudizio su tutto partendo da una cosa che abbiamo detto prima nel prescio nostro tra noi due basta. Tu hai visto un messaggio chiaro ed esplicito di Brody King. Prego. Si partiamo dalla fine. Brody King ha detto che non è finita più. E riferendosi a Darby Allin comunque. Quindi già questa è una parte fondamentale. E tanto prima cosa appena ho visto cominciare l'incontro a di là che l'abbiamo visto quindi la parte migliore dell'incontro dopo le dure che non ce l'hanno fatta vedere così non possiamo giudicare e ho detto vabbè meglio via dente via dolore cioè ce lo togliamo subito perché sapevamo che l'incontro sarebbe stato purtroppo non per limiti dei due lotatori ma quando sono questi incontri quello è. però è interessante la parte di Miro ovviamente anche come ha rifiutato Giuliaro comunque e tant'è il nominare sua moglie c'è sempre come vediamo poi se prima o poi arriverà o non arriverà e però è interessante lui si è rivolto verso Malachi Black. Noi sappiamo che c'è all'auto tra tre settimane e allo stesso tempo però se noi diamo uno sguardo a una cosa che ci hanno detto dopo si fa fatica a pensare che la South Black non arrivi in fondo. Allora del tornere parliamo dopo no? Eh sì però le due cose costano un po' come... Sì allora vediamo un po' sono l'unico che quando ha visto Giulia a parlare da Miro ho pensato che arrivasse l'anno a menarla No, non sei l'unico anche perché sono stati insieme CJ Perry Sì 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 CJ Perry e Miro sono stati insieme a The Session con René Paquette quindi cominciando a vedersi anche diciamo ufficialmente fuori insieme per cicli di interviste e cose del genere sono stati intervistati praticamente lo stesso giorno poi mi è andato in onda in momenti diversi però dai è praticamente palese che qualcosa sta sobollendo poi che io sia contento no che mi dispiaccia neanche accetto quel che viene cioè alla fine ma per fare quel che fa cioè fare il manager di suo marito cioè chi se fredda il problema è se va sul ring sul ring è di quelle che non è riuscito a comprare sì però onestamente Fabri cioè con il livello della parte pochino cioè neanche troppo bassa del femminile ci sta dentro anche lei eh ah vabbè sì la ripiegano a dark di certo non innalza il livello e però e però lei siamo sempre lì diventerebbe molto probabilmente quasi la più conosciuta se non la più conosciuta quindi un po' ti toccherebbe io spero sempre che non arrivi ma comunque dovesse arrivare faremo a tempo debito tutte le nostre considerazioni è difficile pensare che non arrivino in fondo quelli dell'House of Black ne parleremo dopo ma è anche difficile pensare che sia davvero finita qua per tutto l'insieme quindi qualcosina aspettiamoci ora c'è soltanto da capire come incastrano ok però più o meno più o meno questo ecco dimenticate di una cosa ma il face paint di Sting che aveva il simbolo eh sì perché lui ha preso lo sputtazzo no? quindi ovviamente non ha sellato nemmeno lo sputtazzo l'hanno sellato tutti ma lui no lui chiaramente si è fatto il face paint e basta quindi a sto punto ragazzi se andate contro Black fatevi il face paint perché vi salva l'abbiamo visto con Sting quindi fatevi ha macchiato il face paint alla fine fine sì 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 incontro da Darby le prende sempre non so perché ma mi era so che potrebbe entrare ad un certo punto nell'House of Black per quel Black Mist lui ha detto chiaramente che ha accettato il dono ma lo ritorce contro Malachi Black ma anche perché comunque sono due figure completamente opposte quindi è proprio Miro che può andare contro l'House of Black e non risentire da Black Mist forse più lui distingue a 64 anni esatto alla fine fine voi non vi siete rendendo conto ma Miro è un Bruce Brothers alla fine fine Miro è un Bruce Brothers è missione per conto di Dio è fatta è quello è un altro dei Bruce Brothers allora l'auto e se lotterà entra con Dana Croyd è il fratello di Bruce Brothers ma per forza vedremo vedremo passiamo oltre la prova che c'è un sacco di roba oggi per esempio l'affassione ingovernabile che batte Lucha Bros allora la percezione durante il match è che è stato chiaramente un match da pay per view aiutano e non aiutano le Lucha Rules nel senso che non è quello che crea effettivamente il pathos in quanto tale è proprio come l'hanno usata questa regola questo continuo entrare uscire dal ring in questo modo frenetico roboante ma sempre preciso quindi nella frenesia c'era sempre qualcosa di importante da mettere da aggiungere un incontro che è stato molto molto deciso sulla precisione degli impatti e vabbè loro si conoscono penso da sempre si frequentano da sempre si sono si sono affrontati tendenzialmente poche volte per la Lucha un po' scondore vabbè cioè non togli che sai la conoscenza era una prima volta anche Rush contro Dragon Lee quando l'abbiamo visto eppure dato che appunto si conoscono si allenano insieme sono fratelli loro hanno fatto molto bene in questo caso ovviamente anche anche la fashion e i Lucia Bros hanno dimostrato di essere molto molto bravi sul ring tu che segui molto la Lucia Libre hai sentito un po' un odore di Lucia Libre vera oppure era comunque un porte fatta dallo stile americano no vabbè un pochettino si sono dovuti ovviamente adattare c'è a dire la cosa principale che Andrade sembra l'unico che il toro ascolta perché il toro è quello un po' che dice più cose però quello che gli dice Andrade lui lo fa quindi bisogna poi scopriremo il vero rapporto che c'è tra loro due però è no è riuscito molto bene perché hanno messo tanta parte appunto messicana come dicevi te il fatto di essere un gauntlet ha aiutato le regole di un certo tipo di tag messicano cioè smll di fatto non ci sono i tag quindi col gauntlet aiuti di più poi Andrade del toro che era sette anni che non lottavano insieme e si sono trovati non alla perfezione di più sembrava una coppia fatta e finita senza nessun problema come se lottassero insieme Lucia Bros purtroppo la parte di Penta è ormai un già visto tra Messico e Stati Uniti non conto più le volte che l'ho visto lui tra l'altro si è visto già chiaramente ma è una cosa che si vede perché si vede sotto la maschera lui ha face paint tra un mese e due mesi scusate lotta per non perdere la maschera io non mi stupirei se la perdesse perché lui tanto poi va col face paint e se ne frega non mi stupirei perché ormai è veramente a ogni incontro soprattutto poi c'è il fatto che lui ha questa maschera con laccio un po' più evidenziato lo mettono sempre nella stessa posizione in All Elite abbiamo visto sette miliardi di volte ormai Penta che fa questa cosa qua in Messico lo si vede leggermente meno però in Messico provano sempre a togliere la maschera e non mi stupirei se alla fin fine perdesse la maschera perché tanto lui avendo face paint fa come tanti lottatori stile pagano magari eccetera che poi come in giro con face paint e se ne frega altamente di esser si tolgo la maschera un po' il concetto alla fin fine è quello non che se ne freghi perché gli dispiacerà però comunque lo ovvia così però no l'incontro bello bello cioè che dire anzi fosse stato in pay per più come detto te magari avremmo avuto anche quei 5 minuti in più se poi si vado a vedere le azioni che hanno fatto in coppia Penta e Phoenix magari fuori ring cioè ripetuto da loro che loro fisicamente comunque sono anche più grossi sì dovrebbe risultare molto più difficile però niente due vanno benissimo poi quando riescono a fare le cose combinate anche veramente uno guarda l'altro e riescono a capire cosa fanno e sono due che in coppia di fatto si allenano sono amicissimi ma coppia insieme non è che abbiamo fatto chissà quante volte ma ti posso svelare una cosa svelandola anche a tutti i nostri ascoltatori vai come dici sempre tu no giustamente è un po' rush un abitueno del cercare di togliere la maschera di rompere i coglioni all'altro cioè è il classico che ti rompe il cazzo no cioè ti porta magari allo sfinimento dei nervi prima di portarti lo sfinimento sul ring che è un'altra tecnica quindi tante volte lui prova a togliere la maschera insomma tanti hanno provato a togliere la maschera e ci sono anche riusciti io tutte le volte mi sorprendo di quanto sono neri e ricci i capelli di penta sì cioè ogni cazzo io lo so ormai come ha fatto quella testa lì ma magari si sa chiaramente la faccia o la faccia si sa proprio la faccia certo certo ma io ogni volta riesco a dire ma guarda che capelli neri ma guarda come sono ricci e tutte le volte sì però è come l'altra volta non riesco ad abituarmi quindi forse vederlo senza maschera come stai paventando tu la possibilità poi non è detto che però c'è la possibilità perché fa una luce a te a questa quindi sì poi bisogna avere la stessa la porta fuori questa cosa qua anche negli Stati Uniti ma in teoria lui sicuramente in Messico se dovesse perdere non può più metterla no in Messico no c'è il discorso della commissione della luce a libre che una volta che perdi la maschera non è una regola cioè potenzialmente non la puoi seguire però loro ovviamente la seguono perché perdi la maschera e basta che la commissione la luce a libre della box e c'è questa cosa qua che loro segnano tra virgolette che per i persi perché ricordiamolo che là è obbligatorio ovviamente iniziare con la maschera no quello no era obbligatorio mi pare no 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 adesso no tranquillamente soltanto che è è curioso perché lui col fatto che si chiama Penta e Zero M negli Stati Uniti può essere che possa utilizzare la maschera negli Stati Uniti è quello che poi è curioso da vedere perché cambia nome di fatto è come se fosse un altro lotatore hai l'hai detto veramente quindi hai appena legittimato Johnny Elite Johnny Impact l'hai legittimato ormai si è messo agli atti che per Fabrizio tutte le volte che Johnny qualcosa si chiama diventa un'altra persona un'altra persona scusa hai visto far fare che ne so al Johnny magari fosse un incontro lungo al Johnny Hardy delle cose che faceva Johnny Impact soprattutto poi io non li ho mai visti neanche in tagging insieme esatto è fatto è fatto cose che si imparano Elite Friday ragazzi ecco perché dovete seguirci ogni secondo tra l'altro so che volevo dire un'altra cosa ma me la sono dimenticata mentre parlavo e mi verrà in mente a fine trasmissione quando ormai non incontrerò più di nuovo ed è per questo che dovete abbonarvi poi al nostro canale perché così poi la ritrovate anche il post show che faremo dopo questa trasmissione e sarà solo per gli abbonati quindi Fabri però i Bucks ci hanno provato ma non ce la fanno proprio a tenere l'appoggio sperato da Hangman almeno per ora allora cosa è successo intanto al fine di questo segmento vi faremo vedere il tabellone dei titoli Trios così capiremo questo torneo come si andrà a sviluppare e daremo anche qualche dritta così poi magari facciamo un contenuto apposito proprio per per i titoli Trios quindi oggi pedaliamo un po' alla veloce poi magari facciamo bene le cose in un altro momento sta di fatto che i Bucks sono andati hanno fatto anche un bel racconto di quello che è stata diciamo la loro storia negli ultimi anni nell'ultimo periodo e un racconto che onestamente poteva anche essere molto sincero ma era anche un racconto fatto molto bene le cose fatte molto bene possono essere anche preparate recitate no? quindi Hangman un po' probabilmente per il dubbio è un po' perché effettivamente un uomo di valori per il momento dice di no la motivazione lui sarà l'uomo all'angolo del Dark Order Dark Order ormai palesemente rimasto in quattro cioè quelli che sono andati ok quelli che sono andati e si sono trovati in un'altra stable ok ma anche quelli che semplicemente non sono più apparsi non sto parlando dei Colt Cabana sì no sto parlando dei Colt Cabana cioè quindi in realtà vabbè ci sono rimasti questi quattro e tre di questi quattro faranno il torneo Hangman l'uomo all'angolo gli dice io sto con loro perché loro c'erano veramente nel momento del bisogno c'erano nel momento della gioia nel momento del dolore mi hanno aiutato la situazione sembra bloccata a quanto è quotato Fabrica la settimana prossima proprio Hangman vada ad aiutare i suoi amici che probabilmente partiranno due contro tre e diciamo che sono moltissime possibilità come ce n'è come non è da escludere che ci sia quella di Omega perché non è da escludere nemmeno quella anche se io ho la convinzione che Omega nemmeno all out ma lo vediamo in Canada questa è è la mia che si prende il pop della vita senza senza nessun problema però è molto molto probabile ma è molto interessante poi magari questa è una cosa che diremo quando si farà lo speciale del torneo vedere come si comporterà quando è scritto dell'elitto perché se noi andiamo a vedere quella parte del tabellone sembra una parte molto impegnativa perché la facciamo ingovernabile loro ti può far pensare anche che possa succedere qualcosa comunque però magari in scritto dell'elitto può essere può costare l'incontro ai Bax e si presume bene sono letteralmente incuriosito da questa situazione ormai nel torneo ho poco hype perché l'hanno annunciato troppo presto rispetto ai trio e nell'insieme dei trio comunque manca della gente l'importante si manca della gente poi è anche sviluppato male nel senso abbiamo detto prima House of Black di là praticamente non è un avversario e di qua primo turno mi vai a mettere due parti più forti di quel lato cioè vabbè e vediamo vediamo perché chiaramente chiaramente questa situazione un po' è fatta per creare dei dynamite al fulmicotone perché un po' l'intenzione credo sia quella Fabria diciamo dei dynamite worth watching vale la pena di mettersi a guardare dynamite in diretta perché perché ci sono questi tre contro questi tre che cazzo ti faranno il meccione ok non solo saranno questi tre contro questi due e questi tre avevano recentemente Kenny Omega che poi non c'è più ed erano contro Hangman Page Page ha detto io non ci vengo da voi perché c'ho altri impegni Omega è fuori e tu ti vai a chiedere ma chi cazzo arriva e io so che qualcuno sta dicendo un nome ma ve lo diremo quel nome magari quando vi faremo vedere il tabellone perché in realtà adesso vi facciamo vedere il tabellone per entrare un pochino più all'interno del torneo Fabri allora nella parte sinistra c'è il Death Triangle che andrà ad affrontare un insieme di rotatori interessanti composto da Will Osprey e gli Ossi Open io ti dico come va poi Will Osprey Schiena Pack e a All Out vediamo il match per il titolo All Atlantic per me invece vincono proprio il Death Triangle però a All Out c'è lo stesso Pack contro Schiena Pack ok ok perché c'è il livello tra gli Ossi Open e l'Ussi Abbas in questo momento sotto andrà dell'idolo Dragon Lee Rush quindi la fassione che comunque abbiamo capito è stata sdoganata almeno come parola all'interno dell'Elite contro il trio formato dagli Young Bucks però lo sono solo loro e questo terzo sorpresa che ovviamente tutti stiamo diciamo ipotizzando in un nome tra Kenny Omega fuori ancora per infortunio e Hangman che ha appena rifiutato di entrare in questo terzetto un altro nome possibile visto che stavano parlando un po' degli albori della vera Elite un altro nome potrebbe essere quello di Marty's Curl che comunque è passato tanto tempo da quando sono successi i guai alla sua carriera la vedo improbabile però perché non citarlo come nome che avendo fatto parte del gruppo dell'Elite potrebbe anche oppure potrebbe esserci comunque un nome che viene dal Giappone abbiamo comunque terminato sostanzialmente credo che si finisca in questi giorni il Climax non sto seguendo il Climax ragazzi voi direte ah ma tu segui il Giappone io vi dirò sì ma il Giappone non è la New Japan la New Japan è una federazione del Giappone quindi se non la seguo perché non mi piace e non mi diverte e quindi a posto cioè voi lo state seguendo l'N1 Victory perché è iniziato anche quello per me è più importante l'N1 Victory della NOA quindi e niente sto di fatto che finisce comunque in questi giorni appena finito finirà credo che dalla prossima settimana comunque un eventuale nome anche del continente asiatico non che sia per forza un giapponese dovrebbe anche essere qualcuno che arriva non si sa mai non si sa mai quindi questa parte insomma del torneo potrebbe vedere procedere di nuovo Andrade e Dragon Lee Rush per andare di nuovo contro questa volta Death Triangle oppure Will Osprey gli assi open ma nella mia testa passano Will Osprey gli assi open e Young Bucks e quindi lì va in questo modo qui mentre invece dall'altra parte abbiamo l'House of Black che si scontrerà contro non riesco a leggere aspetta che guarda di là Dark Order Dark Order già non ci vedo di mio ragazzi poi l'ho dovuto guardare la televisione che è più grande ho già ho ancora gli occhi lucidi perché mi è risalita la febbre stasera quindi non ci vedevo veramente niente comunque Dark Order e mi sembra evidente che passi l'House of Black dall'altra parte c'erano i Trust Busters che sono questo terzetto formato d'aria dai vari da quello che sembra Brock Lesnar e quello che sembra John Cena che vanno contro i Best Friends o Drone e quindi i Best Friends andranno avanti e avranno poi uno scontro contro l'House of Black House of Black primi campioni trio non lo so è un bel torneo fatto così perché comunque vada io non sarei soddisfatto di nessuna vittoria non so tu prova a dirmi la tua no perché appunto come ho detto prima sono livellati molto male tre coppie tre tri forti da un lato quattro dove comunque sono anche forti di Ossprayers open però ovviamente non danno a loro la prima cintura quindi comunque mettiamone tre su quattro dall'altra parte sono House of Black Best Friends più che altro per il discorso dei tifosi che gli piace vedere di Ossprayers però veramente il dubbio magari può essere appunto come dicevo prima sulla Fassion contro l'elite ma soltanto perché magari è veramente Adam Cole e hanno discutito ed era rompono le palle ma solo per quel motivo lì perché figuriamoci se con il lottatore a sorpresa vanno a perdere perdono solo se succede qualcosa e quindi e può succedere qualcosa non è detto di no perché poi andrebbero a riprendere la faida del triangle contro Fassion ingobernabile stavolta in tre contro tre e poi andrebbero a riprendere un eventuale finale a Sob Black che ne so contro del triangle ad esempio vai a riprendere anche una vecchia faida potenzialmente possono fare anche così c'è di tutto dentro c'è veramente di tutto però ci sono anche delle situazioni tipo Pack e Osprey che devono fare il match uno contro l'altro in singolo e probabilmente ci potrebbe essere di mezzo il titolo dell'Atlantic hai comunque i Bucks che con l'aggiunta sorpresa verosimilmente potrebbero andare avanti è un bel casino un bel casino e poi hai la disputa dell'elite che in qualsiasi momento ragazzi potrebbe arrivare a rompere il cazzo in qualsiasi momento ecco se c'è discorso in dispute dell'elite però che facciano rompere le palle o qua ai quarti o nella semifinale perché in finale in pay per view quello non penso perché comunque in pay per view secondo me se lo fanno questi tre qui contro che è un rischio incredibile è incredibile mi è venuta in mente adesso e la butto lì se la disputa dell'elite buttasse via una delle tre copie dell'altro lato ah beh ci può stare anche che ti puoi passare sì 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 oppure ci potrebbe essere una situazione in cui cazzo ne so arriva come compagno degli young bucks ad un call che poi quando è il momento magari di entrare si tira indietro dice io non sono abile a combattere quindi dovete cavare voi e loro perdono e quindi poi magari si fa una faida con uno dei due per all out anche quello ci può stare ce n'è ce n'è di possibilità non voglio correre troppo però ce n'è non so cosa dici tu Fabri però direi che sì no no appunto più o meno quelle che abbiamo detto perché poi con tutto il bene che possiamo volere alle altre ma il Dark Order non possono mai vincere i trust buster abbiamo paventato anche che eventualmente possono essere sostituiti da un type quindi non gli diamo molte speranze e best friends sono la classica trio mi viene sempre a dire coppia che tanto ti garantisce la prestazione non è un problema sì 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 vedremo vedremo ne saprete di più nei prossimi giorni anche da parte nostra che metteremo insieme un pochino lì però ecco scusami se ti interrompo questo è figlio anche il discorso quando mi ha detto eventualmente pacco spray in pay per view o magari più avanti o prima quello bisogna vedere è comunque figlio di una non costruzione ancora con una settimana in più di ora allora All'out se l'ho vista giusta è stato costruito a piccoli cioè ci sono in questo momento tantissime faide aperte credo che debbano solo decidere quali far chiudere il vero problema è che quando ce ne sono tante piccole aperte non senti il peso di nessuno e ti salvi con un match 3 contro 3 di un torneo non è il massimo diciamo stiamo dicendo di là l'house of black se non succedono cose appunto di spirito dell'elite eccetera favoritissimi allo stesso tempo è quello che dicevo prima ci sarebbe in teoria miro contro ma miro e quindi vorrebbe dire che quella la metti in un attimo in un angolo è tutto molto in divenire tutto molto diciamo che avevano scelto proprio il periodo migliore avessero preparato prima il torneo anche due mesi fa non interessa quando e poi la finale te la fai all out però almeno sai già che quelli sono occupati lì punto sì 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 vedremo vedremo ma cambiamo argomento che davvero abbiamo dedicato troppo tempo a questa cosa andiamo avanti perché Lucia Saurus si sbarazza di Anthony Henry ma gli attriti con Christian non sono ancora molto vivi vogliamo dire che Christian ha cominciato a parlare ancora storto c'era Jungle Boy tranquillo al tavolo del commento è scattato come un'anguilla per andare a colpire Christian Cage tra l'altro in modo molto intelligente prima ha guardato per cercare di capire dove poteva essere posizionato e poi è partito di corsa si è lanciato la security lo ha fermato a due centimetri dal dentista perché stava per piantare la faccia completa i denti proprio a terra e niente questa è un'altra faida per All Out punto devono assolutamente fare qualcosa All Out con l'ultimo plot twist che sia Jungle Boy che va con Christian che sia Lucia Saurus che decide boh ma qualcosa devono fare lo devono fare in pay per view ha rotto il cazzo se no uno va troppo avanti uno va troppo avanti poi al momento è veramente l'unico incontro costruito per All Out e se non lo fai finire All Out e allora da vedere il discorso Lucia Saurus anche perché il fatto di averlo visto alla fine impazzito per difendere comunque per difendere Jungle Boy non è che è impazzito perché voleva difendere Jungle Boy quindi vedere anche cosa porta questa nuova questa divisa nera di Lucia Saurus ma sicuramente comunque questo è un altro di quegli incontri che in qualche modo devono arrivare a All Out allora vuol dire che è sbagliato no il timing è perfetto con All Out perché dopo stucca dopo stucca dopo rompe i coglioni ce n'è un'altra che potrebbe arrivare a All Out non so in che modo perché Jay Little e la sua squadra vuole continuare la sfida con Warlow ovviamente in aiuto di Warlow sono arrivati gli FTR anche qua se non ci fosse il torneo Trio io ti direi vabbè facile fanno un 3 contro 3 il problema è che il 3 contro 3 non possono giocarsene un altro deve essere solo la finale però uno quello ma son Jay Dutt però è ritirato sì però ha già combattuto un 3 contro 3 sì 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 quindi in realtà quindi in realtà anche Onita è ritirato sì vabbè anche Ric Flair è ritirato poi spoiler l'abbiamo vista anche Madison Ray è ritirato più volte esatto quindi l'unica cosa che mi viene in mente è che si possa fare qualcosa con Warlow e Satnam Singh altro e sì essendosi già stato contro Jay Lita non si sono di fatto però mai incrociati nemmeno stasera scuso il pestaggio so quindi però sembra che tutto vada parare a quello per far vedere Giovanni 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 attento a dire queste cose come si dice come abbiamo paventato uno o due settimane fa per far apparire ancora più potente Warlow perché comunque riesce a fare qualcosa con il gigante i giganti nelle federazioni sono messi per questo per far vedere che quelli grossi o li riescono a sollevare o comunque riescono a fare le mosse di impatto a battere quindi ormai non è da stupirsi se arrivi proprio l'incontro alla fine sia quello sono in parte incuriosito perché come dicevo nel video che ho dedicato questa settimana mi pare forse nel video Battle of the Belts l'ho detto prima togliamo l'aura del gigante al gigante e meglio è tutti i giganti hanno questo iter di solito si normalizzano quando perdono se lo normalizziamo lui poi non è più il gigante ha un buon rapporto con i suoi compagni di spogliatoio tutti ne parlavano già bene prima avevamo già accennato del fatto che tutti sono contentissimi di come si allena della voglia che ha di fare bene cioè che non è arrivato lì per spillare dei soldi l'assegno andare a casa però ho visto proprio che ci sono moltissimi anche che fuori che i Fabi tranquillamente fanno le foto con lui che passano il tempo con lui cioè si è inserito bene e fa sempre ben sperare una cosa del genere perché di solito quando in un ambiente di questo tipo dove ci sono persone che lottano per anni nelle indipendenti a farsi il mazzo accettano così bene una persona che è arrivata da fuori da un altro mondo significa che quella persona lì comunque si è messa con umiltà a lavorare indipendentemente dal ruolo che gli hanno dato i capi si è messa a lavorare bene e questo bisogna darne atto a Satnam Singh c'è da dire che però lui è green molto green e che quindi deve essere messo al suo posto e cominciare poi il suo hitter classico basta non normalizzi fine sì 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 stavo per dire una cosa ma non so se posso dirla quindi no no va bene sì penso che anche qui insomma non ci sia moltissimo altro da dire no beh più di vedere se effettivamente Wardlow va contro Satnam oppure c'è la rivincita congelita non possiamo fare quello è l'unica cosa che possiamo dire è che se arrivano gli FTR a dare una mano questo profumo di amicizia che sarà formata nel Pinnacle è rimasto questo sottotraccio noi del Pinnacle siamo una famiglia è un po' rimasta e questo potrebbe essere un altro input per il rientro di MJF occhio perché All Out è vicina e visto che è arrivato devo dire sì sì visto che poi va bene è un po' rimasto 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 Satnam sta a Wardlow come Wardlow sta a Little in che senso ah dici come che Little è più bravo di Wardlow e Wardlow è più bravo di Satnam io lo vedo così è vero sì non c'è niente di ma però però sono tutti e tre lottatori Little Little prima degli altri si è dovuto impegnare un sacco per riuscire a ottenere un ruolo un posto perché voi adesso lo vedete così navigato e tutto quanto ma Jay Little all'inizio carriera era fenomenale e non se lo inculava nessuno perché la sua personalità personalità e poi Jay Little è ricordato per Macho Man e per Ric Flair fatti da lui ma perché lui ha avuto anche una sfiga in mane in TNA tutti quelli dall'X Division intanto erano oscurati da Joe Stice e Daniels quindi già quello lui era un sottoposto di Joe lui era un sottoposto di Joe e in più gli metti gente magari come Shelley Sabine eccetera c'era un periodo di fenomeni e quella gente come se non bastasse sfiga su ma era tutto era in govono anche ostineris eccetera quindi c'è la fine non lì è stato un momento difficile per lui ma ne è uscito Warlow uguale perché è arrivato un po' avanti forse rispetto all'età in cui ci si aspetta dell'arrivo di Warlow non è vecchio Warlow ragazzi per l'amore del cielo però insomma ci si poteva aspettare che facesse un po' prima ma per mille ragioni che ho già spiegato anche nel Beyond EW dedicato a lui anzi credo che sia nello Star Power che è una rubrica che tornerà stiamo da portando al prossimo è stata comunque un'incognita completa perché quello che abbiamo visto non possiamo dire bravo quindi bisogna vederlo poi in un incontro visto il suo fisico in un incontro da 5 minuti diciamo perché sicuramente non lo faranno poi arrivare oltre però per lo meno vederlo si 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 assolutamente si assolutamente si ci stanno facendo non usare troppo Omega perché non ritorna a sorpresa MJ esatto si 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 andiamo oltre anche qua ricordandovi ovviamente che questo progetto va avanti anche e soprattutto grazie al vostro aiuto quindi mettete un like se non l'avete ancora fatto questo video su YouTube e ovviamente cercate di aiutarci facendo condivisione di questi contenuti in modo tale che tantissime altre persone possono venire a conoscenza di un progetto che sta cercando di parlare in modo serio e motivato dell'Oreal Elite come sapete non per fare i fenomeni e chissà che tipo di guadagno morale o monetario vogliamo avere parliamo male delle cose di cui c'è da parlare male quindi siamo non siamo servi cerchiamo di farlo a modo nostro parleremo così anche se facessimo sulla Davila Luia stessa cosa non è che cambiamo i modi cioè i modi sono questi poi diciamocelo noi non noi non siamo degni di far parte dell'angolo del cringe quindi noi rimarremo sempre nei nostri ranghi perché perché la vera ciliegina sulla torta nell'angolo del cringe è Anna Jay Fabri io potrei guardare ogni puntata per i prossimi sei mesi con un angle così poi prendere staccare tutti questi pezzi metterli insieme farmi un film da due ore e guardarlo e continuare a volerlo rivedere per sempre quanta brutta quella parte veramente brutta fa molto Peter quando si fa col ginocchio quando ha messo la cosa di dieci minuti cioè con i video di dieci minuti e è stato bello per quello comunque il trash che era è stato bello la settimana scorsa questa settimana no avrebbero dovuto fare un'altra cosa e invece io vi avevo annunciato la settimana scorsa ci divertiremo purtroppo l'ha rifatto ma doveva fare un'altra cosa è stato ha fatto bene a rifarlo non stiamo a dire il perché però avrebbe dovuto fare un'altra cosa questa volta sempre cringe ma un'altra cosa assolutamente sì però lo farà anche la settimana prossima 9 su 10 e purtroppo tengo di sì però io non vedo l'ora sì è già stucchevole la seconda figuriamoci la ragazzi se lo vogliono far bene devono veramente rompere i coglioni cioè questa puntata era il via per farle fare un'altra cosa cringe o per farle continuare questa vuol dire che ormai le fai continuare questa io lo sapevo io me lo sentivo hai capito che quando vedi quando intravedi in un personaggio c'è un cambiamento un cambiamento può portare o qualcosa di molto positivo o a un altro periodo né più né di così credo che non potessero scegliere no ma anche perché poi lei è difficile a più di così ma anche perché lei poi nel Dark Order la vedevamo magari in Bing Delete perché poi di fatto su Ring non si è mai vista bene come cosa di un Dark Order che quando scherzavano con lei lei però di fatto non parlava nemmeno era più una cosa da espressioni e se magari potessi oh Eddy siamo in due perché in realtà questa roba qui per come me la son vista io o te la fai andare giù o la vivi di merda e io ho preferito farmela andare giù dico la verità perché vivere di merda anche questa non ne ho veramente voglia perché questa è veramente brutta cioè qua tra le cose cringe credo che abbiamo raggiunto livelli molto alti non elite con questi segmenti e poi non è aiutato nel senso ok che la gerica per senso society vuole porta allo stremo poi queste cose qua eccetera sarà che non ci sono ultra simpatici tu poi però è cioè è veramente l'angolino perché c'è il cringe attenzione il cringe può essere molto bello può essere molto molto bello però tanto sarà così per un bel po' di settimane preparatevi prepariamoci ma invece è bello come non ce n'è Ricky Starks batte Aaron solo e la Factory invece prova la strada di Powerhouse Ops molto backstories backstories scusate Aaron solo e Ricky Stark sono stati in coppia insieme si conoscono questo non ha impedito a Ricky Starks di sbarazzarsi molto velocemente di Aaron solo questo non ha impedito ovviamente a Komoroto con questo nuovo personaggio più o meno sul ring ho paura e e niente Ricky Starks un po' bollato con me via il problema è che quando la Factory mi va a cercare Powerhouse Ops che anche lui dice di no il terrore che vogliono fare marcia indietro su quello che potrebbe essere un tour molto interessante c'è perché se entrambi hanno fatto marcia indietro con la Factory ed entrambi dovessero trovarsi schiena a schiena contro la Factory vanno contro la Factory di nuovo insieme la temibilissima Factory sì ma non è quel punto io temo e però che abbiano fatto una grandissima cagata hanno capito di aver fatto una grandissima cagata perché avevano scritto siamo i prossimi campioni del mondo di coppia in testa punto cioè punto già quando l'hanno preso sverbe dovevano vincere loro però magari diceva bevano un po' più avanti quindi si sono resi conto della cagata fatta e forse cercano un po' di riparare più che il discorso schiena a schiena e devi far capire come mettere insieme comunque Hobbs e Ricky Stahl sì vanno contro di loro però poi Ciccio è colpito da dietro e parliamo eh sì diventa molto molto complicato però devo dire la verità mi hanno tolto un possibile match di all out e mi hanno dato un possibile match di all out cioè mi hanno tolto dalla testa l'uno contro uno per scusa se ti interrompo e vorresti vedere all out solo comorotto ti manca non è da schiudere non lo voglio ma non è da altro che buy in buy 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 proprio buy buy eh lo so lo so lo so però un po' questo terrore ce l'ho dico la verità mi mette un po' d'ansia sta cosa lo dico sì ma io ci vado ogni tanto alla posa di star assolutamente comunque dicevo su comorotto comorotto è passato da essere il billy jim a diventare brocklin blower tendenzialmente ma attenzione è toni d'angelo è chiaramente toni d'angelo allora me l'avete detto in due già ewa è toni d'angelo te lo so allora secondo immagino che ti abbia detto è chiaramente toni d'angelo ti può assolutamente vedere sto toni d'angelo non guardo nxt ti passo una foto ma è chiaramente toni d'angelo è il classico perché fanno vedere che è italiano eccetera con i pantaloni della tuta stile lui stile mafioso ok è così tra l'altro è nipote di Gianfranco no? sì di secondo grado è zio è prozio il prozio di è morto Gianfranco d'angelo sì è morto quest'anno o l'anno scorso non mi ricordo mi spiace mi spiace ci sono cose che capitano anche a noi capiterà però sia capitato a lui speriamo qui in lato così certo di versione naturale credo noi siamo già avanti con l'età quindi vediamo vediamo classico italo-americano uscito da il padrino però attenzione di quelli con la tuta non di quelli vestiti bene sì 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 quel tipo lì i picchiatori più che altro sia un po' pappa che un po' picchiatore ok ok me lo squadrerò bene questo questo toni d'angelo ma gli S-Boy sono stati avvicinati da Stockley Hathaway che è stato poi mandato via da Daddy S ma voi lo sapete prima di Dynamite nel backstage con chi si è intrattenuto a chiacchierare il buon Stockley Hathaway sapete c'è una foto che lo dimostra si è pronto Fabri va conosco che è Takeshita ovviamente è una foto in cui dice ah è strano ci siamo ritrovati a parlare di cose da mangiare sport però abbiamo sempre detto da un po' di tempo che gli ci vorrebbe a Takeshita dimmi tu come vedresti Stockley Hathaway what is love insieme a Takeshita tralasciando che io vedevo benissimo ovviamente l'abbiamo parlato Don Callis è un altro discorso e bene perché lui è bravo e da quello che ormai si è capito avevamo già il dubbio la scorsa settimana lui non si fa la squadra la stable eccetera lui fa il classico il manager è vecchio stile che se ne prende uno a uno e se ci sono delle survivor series di turno li mette insieme in quel momento lì per dirle basta ti butto di due nomi potrebbe essere un po' un mix tra Bobby the Brain in and e slick ovviamente la stessa forza il concetto è lo stesso no ma perché fa una bella squadra molto composta però comunque l'atteggiamento quello stile da slick sì beh non è l'atteggiamento da Bobby in and certo certo quello sì 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 ma chiaramente comunque avevo manager manager vecchia maniera con tanti lottatori che se deve metterli insieme li mette nel momento del bisogno all'epoca li mettevano insieme nel survival series o magari quando c'era nel Ryanair si aiutavano un pochettino prima di far uscire degli altri e adesso chissà magari se li porterà al momento cose simili abbiamo soltanto blood and gas magari se li porterà a fare un blood and gas però al momento Fabri magari si inventano qualcosa come abbiamo già detto fare il blood and gas ma eliminazione sarebbe esatto cioè cambiare le aree vabbè questo sarebbe fantastico e quindi avremmo ancora più senso allora butto lì poi dopo cambiamo argomento pensate che bella una coppia formata da Takeshi da Ethan Page lo stavo per dire lo stavo per dire cioè penso che avrebbe detto tutto fisicati tutte e due bravi Page è in coppia salutare benissimo perché l'abbiamo visto quindi anche anche Takeshi che è in quella sua camminiera esatto beh in Giappone lotti più in coppia che in singolo quindi infatti in realtà tutta gente che è molto capace in Giappone vedremo monitoriamo perché qua davvero potrebbe essere molto interessante per noi per il discorso del vecchio stile quant'altro ci ragioniamo sopra ci ragioniamo sopra non vi preoccupate c'è la parte femminile Fabri perché Madison Rain non riesce a battere non hai messo una in più sì vado vado a togliere correggi tu riesce a battere Jade Cargill siamo a 36 a 0 eh 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 Atena sarà la prossima sfidante perché alla fine è uscita proprio Atena dopo un match molto molto troppo scolastico con due o tre bocci di una rara veramente rara distribuzione all'interno di uno solo match soprattutto quel big boot sopra le corde che doveva prendersi chi era Hogan che non ha ma che ha comunque sellato e mi ha ricordato tantissimo quella Whisper in the Wind che aveva fatto Jeff Hardy a quello canadese ma venduto per indiano sì che lei cioè poverina lì in quel momento secondo me che è una frazione di secondo Chi era Hogan ha pensato ma la devo sellare o devo partire di niente e in quella frazione di secondo era sello perché l'errore non è suo poverina no no non è suo è stato abbastanza cringino anche questo però che ci volete fare non possiamo fare molto però 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 io credo che boh la speranza Athena c'è perché comunque è una lottatrice molto molto brava è una lottatrice che con la cintura fa la sua porca figura è una lottatrice che ha una bella storia anche dietro le spalle che la può aiutare tanto io ho anche del merchandise ufficiale suo me ne sono accorto oggi mettendo a posto il cassetto della biancheria ho delle mutande con scritto Athena quindi deve essere assolutamente il suo merchandise ufficiale la conoscevi quando si chiamava Lady Isabel sì sì altro che altro che assolutamente sono stato io in realtà a mettere nell'urna per pescare dove andavano i cavalieri eri il pelato che portava in braccio ero io ero io non mi ricordo come si chiamava ma ti ricordi che ogni tanto metteva su questa armatura da kendo bellissimo bellissimo adesso Giovanni Turra ci dirà come si chiamava il pelato dei cavalieri ho completamente il vuoto ma anche io no ok niente non ho il vuoto poi mi vengono adesso arriva Giovanni ce lo dice lui figurati lui è un altro BDM praticamente anche se è molto più giovane di noi ma dentro lui sa assolutamente di cosa stiamo parlando ci sono Johnny e Cliff che potenzialmente Cliff l'ha disegnato lui il cavaliere dell'Ostia è totalmente vecchio quindi assolutamente sì assolutamente sì ma match quindi da dimenticare praticamente e no Panda non è Cassius no non è Cassius Cassius è quello che gli viene tagliato l'orecchio da da Pegasus è quello che ha perso l'armatura di Pegasus il maggior d'amore di te anche Steve però mi ricordo un nome mi viene mai mai qualcosa ma non mi sta venendo in mente come cazzo si chiama sono bloccato lì sono bloccato noi andiamo più avanti e sappiatelo uscite il nome come se no tirate fuori il nome veramente non sto scherzando mentre tirate fuori il nome cioè non vi sorprendete che Madison Reign cioè vi ricordo che comunque è una che ha 5 ritiri alle spalle più o meno e su Ring anche quando era brava era tendenzialmente brava nel senso in voga era tendenzialmente questa bene vedi anche il sordo era tendenzialmente questa cioè lei era la ruota di scorta delle beautiful people che non erano due geni su Ring erano bravine ma non è più quindi non aspettate che sia arrivata si spera che invece aiuti nella parte allenamento allenamento anche soprattutto per il fatto della parte aerobica perché lei è stata comunque nel fitness per tantissimo tempo può fare tante cose anche Madison Reign non c'è da non c'è da insomma derubricarla non serve a niente perché abbiamo visto due match no l'incontro in un conno è quello che deve fare da backstage non è quello su Ring e anche insegnare come si sta davanti una telecamera che non fa male e loro totalmente con le beautiful people poi non ne parliamo catalizzavano la tensione pur non essendo dei fenomeni non solo perché erano belle ragazze se me è Dyson Reign se proprio doveva arrivare una delle beautiful people è proprio lei purtroppo Velvet Sky non lotta più fa la telecronista per la Velvet Sky mia moglie lei proprio lei moglie nostra in generale e Angelina Lomf più o meno lei lotta ancora perché Angelina Lomf era quella brava sul ring delle tre invece però è più o meno lotta non lotta ma anche lei comunque ha lottato comunque in ringovono fino a un anno e mezzo fa si è vero Mylock oh Mylock vedi che era mai qualcosa stai che andavano andando a cercare Mylock Mylock grazie grazie possiamo andare avanti abbiamo detto questa cosa di me di John Ray soltanto che non era da dire ma andiamo avanti sto bene sto molto bene mentre invece con l'infortuna di Christian Lander Tony Storm si ritrova prima nel ranking allora io ve la dico ve ne devo dire due la prima ma che sfiga Christian Lander è tornata da poco relativamente con un ginocchio e si è infortunata all'altro nello stesso modo quindi starà fuori altri nove mesi è più o meno nove è la nuova è la nuova vittoria barra tara tale quale la vedremo sempre con i tutori in queste due gambe stavolta è tara bravissime però poi boom nove mesi a partire da adesso che siamo a metà di agosto sono settembre ottobre novembre dicembre gennaio febbraio marzo aprile maggio metà maggio vuol dire che potrebbe ritornare più o meno per double ma vi rendete conto questa è sfiga ragazzi questa è sfiga è una delle più tifate è una delle original se vogliamo è una di quelle che con la sua bravura la sua personalità il suo modo di stare sul ring si è guadagnata tutto quello che c'era da guadagnarsi aveva scritto in testa batto jade ho scritto e invece ci fanno assaporare il 50-0 di jade tra un po' quindi vediamo molta 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 paura molta 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 paura e cosa voglio dire poi di Tony Storm se è arrivato a dire Tony Storm esatto a questo punto col fatto che ci lamentiamo sempre di non avere gente donne faide per le donne cazzo vuoi tu un match multiplo che può essere un match eliminazione quattro persone che si menano e ne rimane una e quella che rimane è prima nel ranking lo fai con quelle che rimangono sotto vuoi farlo con le tre che rimangono sotto vuoi fare un gauntlet match in cui le ultime tre sono le tre che sono rimaste delle cinque vuoi fare una battle royale in cui le ultime tre ad entrare oppure prima si sfidano in dieci quella che rimane si vede arrivare queste tre qui trovo un cazzo di modo per far vedere più ragazze a questo punto e trovo un cazzo di modo per rendermi un po' più divertente il discorso di rinserire Tony Storm all'interno della faida perché non c'è una faida ora e non regge il tu lo sai che siamo amiche ma prima o poi vorrei vincere quella cintura sì io starò al tuo fianco mercoledì è il match che avrai però poi di questa ne riparleremo casualmente casualmente mercoledì magari avranno un piccolo screzio o voi esatto esatto e hai girato per due mesi facendo fare Tony Storm Jamie Ather Tony Storm sì Tony Storm Jamie Ather Thunder Rosa Britt Baker perché dovevi comunque mettere Britt Baker in mezzo e niente quando diciamo queste cose le paghi le paghi poi ovvio che fa piacere vedere Thunder Rosa contro Tony Storm in pay per view sì certo fa piacere il problema è che me l'hai fatto poche settimane fa ok sarà bello non metti in dubbio che sia bello brutto l'incontro ci mancherebbe e mi farebbe anche piacere vincere se Tony Storm perché comunque cambierebbe un pochettino però non ha senso non ha proprio senso e niente è il solito problema di visione femminile e quello è vediamo fin quando ce lo portiamo avanti si parla di KS poco fa forse esagera con i pesi dice Fibrissimo non è quello è una questione dei pesi perché altrimenti sono tanti quelli che dovrebbero farsi male probabilmente lei ha bisogno di le ginocchia tra virgolette leggere purtroppo capita ci sta cioè è un peccato però ci sta d'altra parte magari ha avuto la sfiga di fare un movimento che poi a volte quasi sempre così un movimento sbagliato è la sfiga o una caduta ragazzi è un attimo poi in quei casi davvero un peccato sembrava lanciatissima sì sembrava veramente lanciatissima e questo mi dispiace mi dispiace veramente sperando che il match tra Tony Storm e Thunder Rosa sia meglio di quello di Forbidden Door spero proprio io sono convinto ancora adesso che non facciano quello ma come diceva giustamente un nostro utente nel gruppo Telegram si faccia un 4-way probabile a questo punto probabile sempre più probabile anche di magari un 4-way eliminazione non sarebbe male che tra l'altro era giusto ieri a Soccolo ho detto se guardiamo la classifica prima rasse trender ma non sapevamo che rasse trender no io non ho più seguito qualcosa di dire anche io quindi Fabra rispondi tu per favore perché ciò e non tempo no allora capisco quello che volete lo capisco veramente tanto però sbagliato nel senso che è vero che questa Britt Baker è la miglior è il miglior personaggio femminile che possiamo avere in questo momento in un elite e può essere il volto perché sa parlare al microfono perché sa tenere la scena ok però non vai mai avanti se tu hai sempre quello a cui devi tornare a un certo punto non vai mai avanti mai 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 quindi meglio di no molto molto meglio di no ci vorrebbe un video di Tony che infortuna la Statlander può dare un po' di pepe e movente alla faida peccato che la Statlander con quel primo nel ranking sarebbe andata per il titolo TNT TNTBS e quindi c'era già quella faida lì quindi avrebbe poco da dire troppo massa muscolare rispetto all'articolazione del ginocchio può darsi però anche lì quanta gente c'è che ha molta più massa rispetto all'articolazione e non si fa male è proprio una questione anche fisica a volte vedi camminare gente in giro che dici sia per un problema di peso o per un problema di muscoli come fanno a regge le ginocchia e lì reggono le caviglie insomma esatto c'è di tutto in giro c'è di tutto in giro Tandarosa mi sa che tra due mesi torna Tandarosa mi sa che tra due mesi non c'è più ma 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 esatto è facile quella lo scopriremo solo vivendo Brick Baker per me non puoi lasciarla fuori è lungo quindi un match a quattro mi sembra la strada giusta anche per aprire il futuro sì sì ma infatti credo che l'opzione migliore sia aggiungerla a un match così dato che in questo momento devi aggiungerla si comincia a pensare a una costruzione senza Brick Baker in mezzo tanto ormai questa c'è Brick Baker in mezzo perché questo non la togli no? beh questa è andata però dalle prossime se no io e Fabri smettiamo di parlare nel senso certo punto è veramente perché poi quando vedi che è una divisione non c'è un minimo di miglioramento ma anzi continua sulla stessa strada e ti viene il dubbio forte che te ne freddi altamente di quella divisione in questo caso è quella femminile sì assolutamente sì massa muscolare già sarebbe sempre rotta esattamente e niente se lavorasse anche anche su altre non ci sarebbe sempre bisogna della becca perché nel tasto della N ce l'ha cancellato come nei telecomandi quindi gli è venuto fuori esatto capita si cancellano facilmente date il titolo Jimmy Hater sì esattamente date il titolo Jimmy Hater questo è quello che vorremmo noi Fabri dopo tutto questo siamo nel main event perché John Moxley batte Lionheart non esattamente ero sbarbato però hai visto come sembrava più giovane ero sbarbato e ha fatto l'ingresso un po' stile sui primissimi tempi poi basta è diverso ah beh dai ha fatto la Wolf of Gerico ha fatto l'originale sì anche però ha fatto molto Boston Crab normale anche sì Wolf of Gerico tra l'altro è tenuta a 46 ore per tenere in pausa pubblicitaria che è un certo punto che mi ha speso un attimo però la schiena comincia a far male per davvero e non quella cosa vabbè è stata un po' così però vabbè ci sta ragazzi insomma va bene va bene così anche lì probabilmente si è rotto nuovamente il setto nasale di Chris Gerico sono dei piotti John Moxie ha lavorato da solo il suo orecchio per farlo continuare a sanguinare perché il gioco era io ti strappo l'orecchino ma il sangue deve continuare ad andare se no e non è che il sangue l'orecchio continua a defluire in quel modo lì ragazzi quindi Moxie continuava a colpirsi l'orecchio per far finta di tenerselo e si dava ok John va bene sta cosa del sangue gli ha preso veramente tanto e sta sfuggendo di mano è normale e occhio perché ho l'out perché c'è CM Punk che è un altro che si deve sanguinare non è che si tira indietro guarda la faida a tre più belle sarebbe stata tra loro due e Cody si in questo momento in questo momento si mettevano direttamente il mat rosso insomma chavili senza problemi esatto niente è tornato CM Punk io lo dico bravissimo CM Punk perché ha recuperato un infortunio comunque tosto una frattura di un infortunio tosto ha recuperato in tempi record bravissima la All Elite a farci capire e non capire cosa stava succedendo quando abbiamo visto questa costruzione di John Moxie è stata abbastanza evidente dove sarebbero andati a parare diciamo che io ci ho visto anche un po' un John Moxie che si è andato a cercare per essersi stancato tanto aver lottato tipo due volte a settimana per un mese che sarà uno dei motivi per cui John Moxie avrà perso il suo titolo contro CM Punk anche se io sono convinto che in fondo CM Punk non dovrebbe vincere la cintura rientra e sì sarebbe stato bello farlo aspettare non confermo però magari fai la costruzione nel frattempo qualche incontro ora vabbè ovvio che da qua al 4 sì al 4 non mi ricordo lo vedremo lottare uno o due settimane per carità tra Diana Mike Rampage qualche incontro lo farà e si vede magari se è in forma o no o come ha recuperato però comunque il rischio che l'incontro sia meno mato per le condizioni di Punk è altissimo perché quando torni dall'infortunio per quanto ti puoi allenare la cosa principale che devi fare è stare su abbiamo visto per cose completamente diverse ovviamente Moxie quando è tornato dalla sua riabilitazione ha fatto un mese che su ring dicevamo cioè allenati prima e poi entra su ring perché non non c'era completamente e ha avuto un infortunio al ginocchio vediamo come ha recuperato la parte in ring di velocità eccetera se lo fa ovviamente può lottare per carità proprio con un discorso di fiato è come fare su ring quello diventa un po' più complicato e se il suo primo incontro fosse contro Moxie c'è il rischio che l'incontro non sia come deve essere in realtà c'è il rischio però che lo facciano completamente in brawl per forza e quindi non venga male alla fine esatto ma è completamente in brawl anche perché come è gestito il titolo di Moxie devi farlo per forza in brawl e non vi cioè non vi preoccupate se avete una stipulazione tipo no DQ tipo no holds bar quelle cose lì è la norma è la norma devi proteggere comunque il campione rientrante il mess deve essere importante ma anche perché tenendo conto da come è finita è punk che sta pare che stia faccia la parte un po' del face se poi quello che torna dall'infortunio in ogni caso è quello sempre un po' più face uno come punk vedendo Moxie lottare così è capace a dirgli ok facciamo l'incontro in questo momento nel tuo campo che sia Fultcon anywhere piuttosto che altra cosa disqualification e via dicendo e attenzione barber wire attenzione ve lo dico torna MJF sì stavolta sì così il pubblico è contento di fare MJF contro punk sarebbe un'altra scematta MJF torna anche se fosse poi dopo tre mesi a togliere il titolo a fan punk però è facile che sia così perché a quanto pare quello designato per togliere il titolo a punk è MJF quando dicevamo l'importante è che rispettino i piani se lui sta fermo tanto e Moxie deve tenere il titolo tanto l'importante era che rispettassero i piani a quanto pare allora è una potenza di essere designato eh sì vedremo sono molto contento però di come è tornato punk sono contento che alla fine abbiamo un buon main event sulla carta e probabilmente anche sul ring perché faranno un match di un certo tipo apposta perché come dice Fabrizio se no il rischio di farlo normale tra virgolette vai a rovinare tutto non mi aspettavo così bene e invece sono riusciti a salvarsi in corner ma almeno per il main event si sono salvati quindi All Out sta arrivando e noi cercheremo anche di fare tenere traccio un attimino di quello che potrebbe essere quello che vedremo in pay per view speriamo che dalla prossima settimana qui di lato ci siano perlomeno tanto le faide non le puoi più costruire però perlomeno ci siano già più delle certezze almeno due o tre incontri siamo già in card così tanto da anche perché poi sono anche tra virgolette costretti da un discorso anche di biglietti invece la gente una card ci sono quelli che magari prima di comprare i biglietti vogliono aspettare una card o perlomeno una parte di card certo 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 è un pay per view anomalo come due anni fa però non può venire male al momento sì al momento purtroppo ricorda quello due anni fa e non quello dell'anno scorso e questo ormai non potrà ricordare quello dell'anno scorso vediamo quella riuscita speriamo che è riuscito come quello dell'anno scorso e non come voi due anni fa siamo sempre lì mamma mia mamma mia manca poco come dice anche il fibresimo del baby tre settimane tre settimane non essendoci pay per view mensili è troppo poco la costruzione così breve qui c'è chi provoca Adam Cole provoca per ridare il titolo CM Punk è molto probabile ma vedremo insomma contento di vedere questo match tra i due Fabri direi che è il momento di chiudere il nostro podcast di ringraziare a tutti quelli che hanno seguito dando anche come ultimo dato dati di ascolto di Dynamite che ha fatto 972.000 spettatori 033 di share ancora una volta quindi si sarà testato molto bene a livello televisivo non so dirvi in questo momento non ho ero qua quando sono usciti i dati quindi non ho seguito completamente se ero numero uno nel cavo boh però comunque ancora una volta è andato molto bene siamo contenti ne prendiamo atto fare gacazzi però insomma questo è quanto voglio ringraziare ad uno ad uno tutti quelli che sono qua inciati a chiacchierare con noi vi invito a fermarvi noi chiuderemo questa live e poi ne apriremo un'altra che sarà il post show io resto un quarto d'ora venti minuti perché così insomma facciamo quattro chiacchiere ancora insieme poi dopo io prendo la via di quello che va a riposare che sono ancora molto stanco convalescente ma ci tenevo troppo a essere qui quindi grazie mille a tutti quelli che hanno partecipato finora grazie Fabri per aver dato come sempre il tuo preziosissimo contributo grazie a te grazie a tu ci ha seguito poi chi vedrà in seguito assolutamente sì grazie di cuore a tutti io sono Stefano la voce di AW Italian Podcast noi ce ne sentiamo alla prossima grazie a tutti